Noi volevamo fare un video, che fa la vai a fare la spesa all'IKEA CERRIBAAA Sono Margherico, lei è Federica e noi siamo Catania Food Lovers Tipo questo si chiama Fest Ligt No ma sarà tipo come si dice in svedese, super crispy A chi piace la cipolla? Ma spettacolare ragazzi Le aringhe dell'IKEA Non è vero Ha un sapore fortissimo Ora vomita E il 3, 2, 1 Mamma signore Ma che cari sono, scemi? La mia bocca è stata di pescheria Le purpette Le classiche purpette con la cos, mirtillo Sanno alla lontana di pesce Io la voglio mettere, io Vabbè io nel mio ce la posso mettere, io ne voglio poco Questi Oh che caspio Non vi notare, andando a questo coso si chiama Cafferep Vi è piaciuto un po' sì, un po' no? Sono tutti c***o Un bacione alla prossima video Yeah